Bene, incontriamo un grande artista, lui è artista vero, non di quelli abituati alla televisione, lui lo è nell'animo. Frena, frena, frena. Ciao, ma anche te, la tua famiglia, le tue opere, che sono un tutt'uno, a casa sua si respira l'arte, perché la vedi quando mangi, quando si conversa, lui invita gli amici, è una persona vera, questo è molto importante. Grazie a te, abbiamo fatto bella figura, abbiamo fatto uno spettacolo in particolare ad Asti, alla Duyador, con le tue opere, è veramente, sei stato il valore aggiunto. Allora, ai nostri amici di musica maestro, due parole, cosa stai progettando, sei un vulcano, sei un personaggio etnico, tipo l'Etna, un vulcano. Sto preparando alcune opere, ho intenzione di fare una mostra, musica e libertà. Cioè, parliamo delle gospel, spiritual, campi di cotone, Miriam Makeba, il Golgotha, che è una marcia funebre, e mi ricordo mio padre quando suonava nel dopoguerra la tromba, come te. Mi alzo al mattino, l'una e mezza, alle due del mattino, in piena notte, e dipingo. Poi, durante il giorno, il nipotino mi assorbe, mi assorbe completamente. E, come dire, la pittura è tutta la mia vita, ecco. Hai detto bene, la pittura è la tua vita. Allora, noi facciamo questo lancio. Nell'attesa, noi poi vorremmo a riprendere le tue opere, un pomeriggio. Quando vorrei. Un messaggio ai nostri giovani artisti, che sono all'ascolto, perché questa è musica maestro. Cosa dire a un giovane che vuole fare arte? Due parole alla tua maniera. L'arte non è che si può fare, cioè, l'arte la si sente, e quindi sentire l'arte vuol dire avere qualcosa dentro. I giovani si possono avvicinare all'arte iniziando a guardare delle opere le più semplici, le più belle, poi. Da lì cominciare con una metita, con un carboncino, con un pennarello, e se hanno qualcosa dentro verrà fuori. Luigi, io ti interro un po' solo un attimo, nell'attesa di venire a conoscere la tua opera, e noi ci vediamo una mostra interessante a Raconigi, dove sarà anche la filia di Guglielmo Marconi, Electra. Grazie, grazie. L'abbiamo conosciuta, è una principessa anche nell'animo. Quando avete bisogno dei miei lavori, venite a prenderli e non c'è problema. Sei unico. Grazie, grazie.